Mister Ignazio Chianetta, è finita la partita mazzarese a Kragas 1-1. Come vogliamo commentare questi 90 minuti? È stata una bella partita, giocata tra due ottime squadre, due squadre organizzate, si è vista una bella partita di calcio, è stata una bella giornata di sport. Speravo in un risultato più ampio per come l'avevamo preparata, per l'intensità che ci abbiamo messo, per le occasioni anche avute. Le occasioni che abbiamo subite sono frutto di errori nostri, individuali. Mi ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché secondo me da questa prestazione possiamo realmente, come dire, possiamo tirare il meglio di quello che questa squadra può realmente dare. Mi spiego meglio. Magari all'inizio ci poteva essere qualche perplessità sulle distanze di forza, parlo tra l'Akragas e noi. Oggi penso che questo non si è visto dentro il campo e voglio essere onesto nella mia analisi. Certamente è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, però non siamo tanto distanti da loro, non parlo di classifica, sto parlando di organico, di forza. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo stare lì su, possiamo lottare insieme all'Enna, all'Akragas stesso, al Misilmeri. Non abbiamo ancora perso uno scontro diretto, non abbiamo ancora perso una partita e penso che alla lunga ci mancano solo i due punti di domenica con il Misilmeri. Questa è l'analisi che faccio io a 360 gradi. La Mazzarese punta a vincere il campionato? La Mazzarese punta a migliorare la classifica dell'anno scorso, la Mazzarese punta a fare un campionato importante, la Mazzarese punta a giocarsi le proprie chance anche per la vittoria del campionato. Ecco, dopo il vostro pareggio all'inizio del secondo tempo, la squadra era messa davvero bene in campo e ha portato un forcing per cercare addirittura anche il vantaggio. Probabilmente serve un po' più di cattiveria sotto aria, serve, ecco mi riferisco per esempio al colpo di testa di Giuseppe, a qualche altra azione dentro l'area avversaria. Servirebbe maggiore cattiveria, maggiore cinismo? Sì, sappiamo quali sono le nostre pecche, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto, abbiamo una squadra secondo me forte e anche là davanti individualmente io reputo che sono tutti ragazzi per la categoria e per un campionato importante. per la categoria. Oggi è giocato Mistretta dal primo minuto che neanche era convocato. Stamattina ci siamo sentiti, si è sentito meglio e l'ho messo subito in campo. Per dire che cosa? Che Davide Testa viene da un infortunio. Lo stesso di Giuseppe sta soffrendo anche questioni familiari e quant'altro. Dunque non voglio assolutamente colpevolizzare nessuno, me ne guarderei bene. però io reputo e come ho detto prima che oggi tutti indistintamente hanno fatto una grandissima prestazione con assenze anche importanti perché poi ricordiamo Baiata che in settimana ha avuto un infortunio serio. Lo stesso Mistretta che non sta bene, lo vediamo un po' tutti. Mistretta ha fatto una partita e dopo di che si è dovuto fermare per questioni di problemi fisici. e da quel giorno ancora non l'abbiamo recuperato. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Sappiamo che la Gras ha ancora degli scontri diretti importanti. Noi con oggi ci manca solo il favore tra gli scontri diretti importanti ma tutte le partite oratorio San Giro ne è la dimostrazione. In questo campionato sono difficili. Mister, ritornando alla partita proteste della panchina sono volate quando ha segnato l'Akragas c'è stata molta confusione in aria giallorossa poi la zampata vincente di Pazivic e le proteste dei giocatori giallorossi. Cos'è successo? È successo che il gol è viziato da un fallo di mano netto è viziato da un fuorigioco di un metro, un metro e mezzo da quello che mi dicono io non ho avuto modo di rivedere la cosa che mi... poi siamo esseri umani sbagliamo tutti anche l'arbitro è venuto a chiedere scusa all'inizio del secondo tempo per l'errore che aveva commesso forse qualcuno gli ha fatto notare magari l'osservatore o quant'altro è importante, sono errori importanti assolutamente errori in buona fede me ne guarderei bene assolutamente però sono errori che poi alla lunga si pagano e li paghiamo poi noi che le società che spendono tanto per fare campionati importanti. Adesso testa la gara di mercoledì a Missio Nero la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e poi sabato nell'anticipo di campionato a Palermo con la Parmon Ball Anche lì c'è stato secondo me una gaffa della Lega giochiamo tre partite in sei giorni forse neanche in Serie A succede una cosa del genere forse perché pensavano che non passavamo passavamo il turno di Coppa io sono schietto quando non le mando a dire a nessuno dico che ci vuole buon senso non siamo professionisti c'è gente che lavora pure e rischia poi di farsi anche male ognuno ha bisogno dei propri tempi di recupero e ribadisco ritorno sempre sul ragionamento di prima ci sono società che poi spendono spendono pure tanto per campionati importanti e questa cosa non è non è come dire elegante da parte della Lega dovrebbero stare un po' più attento dovrebbero stare un po' più attenti nel cercare di collocare le partite perché se la rifiavano di un mercoledì non sarebbe non cambiava nulla